un caro saluto a tutti a tutti gli ascoltatori di italiano in podcast e benvenuti benvenuti a questo nuovo episodio episodio non previsto perché è un episodio domenicale quindi non nel nostro programma regolare questo perché venerdì non c'è stato un nuovo episodio quindi per molte ragioni che fra poco vi spiego venerdì ho saltato la registrazione della nuova puntata e oggi ho deciso di aggiungere un episodio extra per recuperare alla mia mancanza e quindi benvenuti all'episodio numero 586 di domenica 13 novembre 2022 un episodio non troppo lungo non ci saranno notizie ma solo il breve racconto di questo fine settimana appena finito e anche forse l'introduzione di una novità che di cui vi ho già parlato ma che presto diventerà realtà prima di tutto questo però la nostra introduzione continua per scaldare ancora un po le vostre orecchie e ricordarvi il motivo per cui siamo qui il motivo per cui mi ascoltate che è quello di esercitare la vostra capacità di ascolto e di comprensione dell'italiano e poi io direi di aggiungere anche migliorare la vostra capacità di conversazione perché tutto questo vocabolario che potete acquisire con i nostri appuntamenti può essere utile anche nelle vostre chiacchierate in italiano come lo facciamo beh fino ad oggi lo abbiamo fatto con il racconto delle mie giornate qualche breve notizia dall'italia e altre piccole cose che a volte cambiano e a volte sono un po diverse lo faremo oggi in questo modo con il racconto del fine settimana e come sempre il consiglio per l'ascolto di questo podcast è sempre lo stesso cercate un momento un posto tranquilli concentratevi sulla mia voce senza addormentarvi come dico sempre e poi cercate semplicemente di prendervi tutto l'italiano che potete il mio italiano è a vostra disposizione spero che sia buono spero che sia chiaro spero che sia utile ma se mi sfugge qualcosa del mio italiano beh non fermatevi subito non scoraggiatevi non andate nel panico completate l'ascolto almeno la prima volta e poi tornate indietro e fate un ascolto più mirato cioè più concentrato più focalizzato sulle parti che non avete capito bene cercate di riempire i buchi e acquisire in questo modo nuovo vocabolario e anche nuovi suoni che si aggiungono a quelli che conoscete già quindi quando sentite qualcosa che non vi torna che non comprendete bene arrivate in fondo e poi dopo con calma provate ad analizzare queste parti questo è il consiglio per scaldare le vostre orecchie e per usare questo podcast perché questa è la mia visione di questo esercizio quella personale di paolo vediamo un po' come è andato questo fine settimana però a questo punto le vostre orecchie sono calde immagino e siete abituati alla mia voce quindi vediamo che cosa è successo e cominciamo da venerdì venerdì è stata una giornata molto intensa molto molto intensa cominciata presto al mattino prima lezione alle 7.45 o 7.50 circa quindi mi sono alzato più presto e ho fatto alcune commissioni il tempo era bello ma questo è stato un dettaglio perché venerdì non c'è stato il tempo di fare niente praticamente sono uscito solo per alcune commissioni e in particolare una quella l'impegno con la mia dentista nel pomeriggio ma come ho detto al mattino subito due lezioni molto presto fino alle 10.30 del mattino sono stato impegnato con questo poi dopo una pausa una pausa per respirare un po' in realtà sono uscito a fare anche una commissione quindi non mi sono esattamente rilassato è subito poi a mezzogiorno di nuovo un'altra lezione una brevissima pausa e poi una chiacchierata anche con Angela abbiamo ripreso dopo una pausa l'abitudine di sentirci durante la settimana come sempre una bella chiacchierata con uno scambio tra italiano e inglese è stato divertente come sempre e spero che nelle prossime settimane i nostri impegni ci permettano di ricominciare questa abitudine che abbiamo avevamo sospeso per un po' perché tutti e due abbastanza impegnati bene pomeriggio poi dopo questa chiacchierata ancora un po' di riposo ma poi subito un impegno con Loretta la mia dentista manca poco ormai alla fase finale del lavoro con il mio dente il mio incisivo superiore che manca come vi ho detto nel passato questo incidente è accaduto un anno fa ormai ve ne ho parlato altre volte ma credo proprio che nelle prossime settimane finalmente riapparirà un incisivo nella mia bocca finalmente forse potrò avere un aspetto più normale in questi periodi in questo anno ho usato una protesi per una dentiera parliamoci chiaro per coprire questo buco ma non sempre non la indosso sempre solo in alcuni momenti per esempio quando devo fare un video non mi piace farmi vedere senza un incisivo quindi la indosso o durante le mie dirette ma fra poco non ci sarà bisogno perché avrò finalmente questo dente e quindi abbiamo iniziato con Loretta questi appuntamenti per preparare questa parte finale tutto è andato bene fino ad ora abbiamo fatto una bella pulizia dei denti prima appunto di cominciare a lavorare sull'inserimento sulla realizzazione anche del nuovo dente perché devono costruirlo e devono farlo sulla base di come era il mio o come sono i miei denti adesso quindi c'è un lavoro di preparazione ma credo che in due o tre appuntamenti forse quattro finalmente potremo installare e potremo rimettere un dente nella mia bocca appuntamento non troppo lungo circa 30 minuti forse 40 e poi sono ritornato a casa per un'altra lezione pomeriggio di lezioni non c'è altro da aggiungere tutta la giornata è stata fatta di lezioni c'è stato un altro incontro prima di cena con Jason poi una pausa e poi ancora due lezioni la sera una finita più o meno alle 11 e 30 volevo provare a fare il podcast per chiudere in bellezza ma davvero ero sfatto e non ce la facevo quindi non è stato possibile ero davvero molto molto stanco potevo forse provare ma quando mi sono fermato questo l'ho detto altre volte dopo che si fa una pausa alla fine di una giornata così lunga è stato quasi impossibile poi riprendersi rimettersi in moto e ricominciare a lavorare quindi questo è quello che è successo venerdì dopo l'ultima conversazione non avevo più energie per niente e quindi non ho avuto nessuna possibilità davvero di fare di fare il podcast di venerdì potevo provare la mattina dopo sabato mattina ma in realtà mi sono alzato un po' in ritardo perché ero stanco e poi c'era c'erano alcune cose da fare dovevo provare a finire il libro che leggo per il mio appuntamento del sabato con Jonathan non ci sono riuscito infatti perché non ho avuto davvero il tempo e ho mancato due capitoli però poi dovevo iniziare anche questa conversazione con del sabato con Jonathan e quindi ho non ho avuto la possibilità neanche sabato mattina di registrare l'episodio del venerdì a quel punto a metà giornata quando ho finito di chiacchierare con Jonathan abbiamo fatto una chiacchierata molto appassionata devo dire da italiano ovviamente metto sempre un po' troppa passione quando si discute di cose interessanti e alla fine quindi era un po' tardi durante il mattino avevo delle cose da fare come per esempio la spesa del sabato e ho deciso di rinunciare all'idea di registrare il podcast del venerdì e quindi semplicemente ho fatto qualche giro la spesa un po' di commissioni sono rientrato a casa e nel pomeriggio sono stato molto molto pigro non ho fatto molto anzi praticamente niente mi sono dedicato a guardare qualche video in inglese per fare pratica ma anche per rilassarmi ho fatto qualche ricerca qualche breve ricerca ma non avevo neanche la voglia di andare a correre perché in realtà sabato avevo intenzione di correre ma semplicemente ho deciso di non fare nient'altro ho fatto solo un'altra bella chiacchierata con Rob prima della cena molto rilassante molto piacevole come sempre e poi dopo un'altra breve pausa con molta calma e con molta tranquillità mi sono preparato una piccola cena perché non avevo neanche voglia di uscire per comprare un po' di schifezze come di solito faccio nel fine settimana non avevo neanche voglia di decidere cosa ordinare per farlo portare a casa ultimamente questo è possibile anche in una piccola città come la mia anche se il tempo di attesa può essere anche 30 40 minuti ma sì è possibile anche da me ordinare qualcosa e farlo consegnare a casa non l'ho fatto ho mangiato in modo un po' più sano e anche in modo più veloce perché poi dopo volevo rilassarmi ancora e finalmente fare la mia bella chiacchierata del sabato con Jay e infatti così è stato abbiamo chiacchierato come sempre un bel po' e ci siamo fatti quattro risate insieme questo è sempre un bel momento della settimana ovviamente ed è anche un bel modo per chiudere la giornata poi semplicemente un film no non era un film era un documentario molto interessante di cui forse vi parlo io ho una piccola passione per le cose che riguardano antiche civiltà e per le cose che riguardano l'inizio della civiltà moderna quel periodo è molto affascinante per me quindi quando ci sono dei documentari o delle serie che mi raccontano qualcosa in più su queste cose su questa parte della storia molto remota sono sempre molto affascinato e mi fa sempre piacere passare un po' di tempo ad assorbire nuove informazioni su questo ma la domenica veniamo alla domenica le previsioni del meteo portavano pioggia questa è un'espressione che usiamo portavano portare il meteo porta pioggia o porta bel tempo è un po' un'espressione tipica in molti la usano portare portare ovviamente non è il verbo più esatto ma in questa espressione funziona bene è un modo per dire che le previsioni prevedono comunque questo è quello che dicono le previsioni era prevista la pioggia per tutta la giornata non è stato così per fortuna all'inizio all'inizio della giornata sì c'era qualche nuvola più scura e minacciosa ma dopo piano piano si è schiarito per una lunga parte della giornata dopo aver fatto piccole cose al mattino come sempre ho sono uscito per la mia corsa quella che non ho fatto sabato sono uscito per una corsa di 8 chilometri con una buona velocità e senza cani intorno senza troppe fobie abbastanza spensierato quindi senza questa questa fobia nella testa ho incrociato diverse persone con i cani sembra che questa cosa sia meno fastidiosa sia già meno fastidiosa ho incontrato anche qualche piccolo cane sciolto senza guinzaglio randaggio ma non ho sentito tracce di come dire di preoccupazione ma è chiaro che però se io vedessi un cane molto grande di quelle razze più aggressive questo sarebbe sempre una preoccupazione lo era anche prima il punto è non aver paura di ogni cane che passa ma quando ci sono delle situazioni di pericolo vero questo è normale non è una fobia immotivata cioè senza motivo quindi ovviamente è una cosa a cui sarò sempre attento starò sempre attento ma come prima esattamente come prima bene dopo la corsa che è finita con un buon tempo ma sono partito un po' tardi oggi ho avuto un impegno in famiglia un impegno piacevole un pranzo in famiglia quindi era un po' in ritardo per la mia lezione con Philip la lezione è finita giusto in tempo per permettermi di uscire di casa e raggiungere la casa di mio fratello dove la mia famiglia era riunita per festeggiare un evento di cui vi ho parlato martedì è stato il compleanno di mio nipote mio nipote Pietro così si chiama e la domenica oggi siamo siamo ci siamo riuniti per festeggiare qualche giorno dopo questo evento questo bell'evento ecco 25 anni mi sono sentito molto molto vecchio perché più lui diventa grande più io divento vecchio ovviamente un pranzo molto buono soprattutto a base di carne e per questo non entro troppo nel dettaglio molti di voi forse hanno una dieta diversa da questa e non voglio come dire creare un po' di fastidio per tutti questi piatti a base di carne che abbiamo mangiato beh è autunno quindi questo è più normale mangiare della carne ma abbiamo mangiato anche cose che possono piacere a tutti come fettuccine e funghi porcini speciali squisite ottime fatte in casa quindi una pasta all'uovo fatta in casa davvero deliziosa e poi per dolce per dolce una buonissima millefoglie c'era anche un altro piccolo dolce fatto in casa ma tutto era davvero buonissimo anche il vino non mi ricordo il nome ma era un buon vino rosso non troppo forte e un po' frizzante perfetto per il cibo che abbiamo mangiato tutto questo è durato circa tre ore tre ore e mezza abbiamo iniziato ci siamo seduti a tavola più o meno a luna e ci siamo alzati cioè ci siamo come dire separati io sono andato via più o meno alle 4 e 30 del pomeriggio e questa è una lunghezza normale per un pranzo in famiglia della domenica e specialmente di un giorno così importante insomma come un compleanno quindi non è stato troppo esagerato come a volte noi italiani siamo abituati e comunque un po' di controllo anche perché ovviamente c'è mia madre e ci sono c'è un'altra c'è la madre di mia cognata quindi persone che non possono più mangiare troppo o cose troppo dolci o insomma abbiamo fatto un pranzo normale non troppo esagerato ma comunque era buonissimo e io ho mangiato troppo ho mangiato quello che le altre persone non possono mangiare ecco un bel pomeriggio in compagnia della mia famiglia ci siamo divertiti era rilassante tutto molto tranquillo qualche bella chiacchierata insomma tempo davvero piacevole da passare in famiglia soprattutto in un periodo come questo insomma in cui il tempo comincia a cambiare si ricomincia a sentire il piacere di stare un po' più in casa di trascorrere qualche ora in compagnia in casa l'estate ormai è dietro di noi quindi piano piano ci avviciniamo all'inverno e ovviamente anche al periodo di Natale in cui si passa più tempo dentro le case e soprattutto più tempo in famiglia una bella giornata davvero sono rientrato a casa poi mi sono riposato un po' e una ultima un ultimo impegno una bella chiacchierata con Susanna come ogni domenica in cui ci siamo divertiti a parlare un po' di cibo e di altre cose interessanti di viaggi perché non vi ho detto una cosa importante di venerdì tra tutti questi impegni tante lezioni impegni fuori casa c'è stato anche una cosa molto piacevole e divertente all'inizio del giorno la mattina infatti ho fatto le prenotazioni per il mio biglietto per raggiungere questa città ma anche soprattutto per il posto in cui alloggerò quindi abbiamo scelto una casa un alloggio dove spendere dove passare questi giorni di riposo è un posto molto molto bello secondo me in una zona centrale di questa città molto molto centrale molto carino e ovviamente il mio invito è sempre lo stesso a provare ad indovinare in quale città io e Jay andremo a passare questa piccola vacanza e potete rispondere a questa domanda nell'episodio del adesso non ricordo ma credo del 7 novembre 8 novembre forse 8 novembre non mi ricordo sì l'8 novembre forse e aggiungo un'altra cosa c'è un'altra c'è un altro sondaggio il 10 novembre in cui vi chiedo come preferite che io legga la frase celebre quando c'è una parolaccia nell'ultima frase celebre di giovedì c'era una parolaccia e io l'ho censurata con un bip ho fatto un piccolo sondaggio per sapere cosa ne pensate quindi nell'episodio del 10 novembre potete scegliere la vostra opzione e farmi sapere se devo censurare le parolacce o se preferite sentirle non le uso mai di solito evito di usarle di utilizzarle anche nelle mie lezioni qualche volta quando ci sta lo faccio quando cito qualche frase importante anche lo faccio ma certamente non è una mia abitudine perché so che siete in grado perfettamente di trovare molte fonti per conoscere le parolacce nella mia lingua però qualche volta con alcuni studenti avanzati guardiamo insieme discutiamo insieme anche di questo tipo di linguaggio ovviamente linguaggio che credo sia normale per molti di noi usare qualche volta non ne abuso anche nella mia vita privata cerco di non esagerare ma qualche volta quando sono in una situazione molto informale con persone che conosco bene amici parenti e insomma famiglia qualche volta una parolaccia ci sta perdonatemi per questo ma comunque questa è stata la giornata di domenica questo fine settimana è stato un po' tra alti e bassi venerdì super impegnato sabato super pigro domenica così così un po' di attività un po' di tranquillità la cosa buona è che ho un bel posto dove stare adesso nella prossima vacanza che ci sarà a metà dicembre e vi invito ancora a indovinare questa città tutto qui per quanto riguarda il fine settimana voglio solo spendere qualche parola spendere qualche parola vuol dire voglio solo parlare un po' di qualcosa no? in modo non troppo lungo ma voglio spendere qualche parola per questa nuova cosa che voglio fare nuova idea con questo podcast ve l'ho detto altre volte ma sono adesso abbastanza convinto di dare la possibilità a chi vuole di contribuire con un piccolissimo abbonamento mensile ma solo per le persone che vogliono ovviamente gli episodi da lunedì al venerdì resteranno assolutamente liberi aggiungerò per giustificare questo vostro contributo perché è necessario che io metta a disposizione degli episodi solo per chi è abbonato altrimenti non è possibile creare questo tipo di abbonamento ma saranno alcuni episodi speciali come dire qualcosa in più a quello che facciamo di solito non saranno troppi in un mese ce ne saranno forse uno o due ma questo ripeto è più per giustificare questo piccolo contributo che è solo per tutti quelli che pensano che si sentono di voler aiutare questo progetto e vogliono dare un loro contributo vogliono farmi sentire il loro supporto non c'è nessun problema per tutti gli altri se non vogliono sottoscrivere o come dire abbonarsi al podcast davvero non c'è nessun problema molti mi hanno chiesto un modo per contribuire al mio lavoro e ho deciso insomma di dare questa possibilità oltre alle possibilità che già ci sono come buy me a coffee o altri modi di supportare il progetto ispeak italiano quindi nelle prossime settimane ci sarà questo primo episodio speciale in cui probabilmente ci sarà una forma diversa di podcast non troppo ma qualcosa di un po' diverso dal solito ho pensato di iniziare questa idea con corrispondere a qualche domanda un po' più personale forse per conoscermi meglio quindi in questo episodio lascerò una domanda che è quella di che cosa vuoi sapere di me di Paolo vi lascio quindi la possibilità di scrivere anche nella vostra lingua madre questo serve a me per discutere un po' di più della mia vita personale privata con tutti voi quindi se avete curiosità su di me potete lasciare una domanda e io userò queste domande per creare questo primo episodio speciale e iniziare quindi questa nuova forma di di supporto con un piccolo abbonamento mensile molto piccolo in realtà quindi scrivete scrivete queste domande potete anche farmi una domanda con un messaggio vocale ogni volta che volete si può fare senza entrare in un episodio particolare si può sempre mandare un messaggio vocale da ogni episodio e anche dal sito del mio podcast su Anchor comunque questo è quello che vi volevo anticipare quindi se voi mandate manderete delle domande io risponderò a tutto quello che posso rispondere farò una selezione ovviamente ma cercherò di rispondere a tutto ovviamente e aggiungerò forse anch'io qualcosa di mio qualcosa che voglio dire e voglio farvi sapere questa è l'idea quindi aspetto un po' qualche giorno per ricevere queste vostre domande e poi comincerò a preparare questo episodio speciale di cui vi ho parlato tutto qui per oggi anzi è anche un po' troppo lungo questo episodio non mi resta che leggervi la frase celebre per il momento ancora lascio il mistero voglio lasciare il sondaggio ancora per un po' fino alla fine del mese continuate a rispondermi hanno risposto alcune persone ma non troppe e continuate a inviarmi messaggi vocali alla fine del mese proverò a realizzare questo nuovo questa presentazione del podcast del podcast per far capire alle persone che arrivano di cosa si tratta e aggiungerò le vostre voci alla fine i vostri saluti per completare questo questa presentazione di italiano in podcast basta basta così davvero basta adesso è il momento della frase celebre la frase che ho scelto oggi è questa che cos'è il genio è fantasia intuizione decisione e velocità d'esecuzione scoprite dove ho preso questa frase qual è l'origine e le curiosità che riuscite a trovare su questa frase che per moltissimi italiani è una frase molto famosa molto conosciuta e che è entrata in un certo modo a far parte della nostra cultura popolare sicuramente la l'opera da cui è tratta è qualcosa che è nella nostra cultura popolare basta mi fermo finisce qui questo episodio come dire extra della domenica che è un po' di scusarmi per la mancanza di venerdì non aggiungo niente ci sentiamo domani con l'episodio regolare del lunedì per il momento vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato Paolo va a riposare quindi vi saluto e ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti